Diciamo che bisogna coltivare, io spero che anche nel 2014 questa possa essere possibile, bisogna cercare di coltivare sia a livello delle istituzioni sia a livello della cittadinanza il senso dell'Europa, il senso della comunità europea e i diritti, cosa significano diritti e doveri per ciascun paese. Il problema di migranti che arrivano sulle nostre coste è anche questo uno dei punti da porre all'attenzione, se è l'Italia che se ne deve prendere cura oppure se è un problema che deve essere trattato a livello della comunità europea. Credo che questo percorso, questa responsabilizzazione di temi come questa arriva dopo un percorso anche di sensibilizzazione per capire qual è il ruolo di un paese all'interno della comunità europea, proprio anche quella di poter gestire insieme tutte le tematiche, quella di poter sentirsi comunità oppure c'è un'autonomia su alcuni temi.